C'è un'ultima premiazione che prevede quattro autorità portuali che hanno dato un grandissimo contributo alla ripartenza dell'Italia e che soprattutto ci rappresentano in Italia. E volevo sul palco il dottor Luca Lupi, rappresentante dell'autorità di sistema portuale del Martirreno centro-settentrionale. E poi ci raggiunge sul palco Ugo Patroni Griffi, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale. Dottor Antiglio Montalto, segretario generale dell'autorità di sistema portuale della Sicilia orientale. E Mario Paolo Mega, presidente dell'autorità di sistema portuale dello stretto. E so che ci tieni. Assolutamente sì, perché sono quattro autorità portuali tra le più importanti d'Italia, soprattutto sono delle colonne. Il presidente Ugo Patroni Griffi fa parte di quella splendida terra italiana che è la Puglia, quindi abbiamo dei porti importanti in Puglia. Il presidente Mega mi ha fatto girare da Messina a Reggio Calabria, è ben arrivato perché pochissimo che si è insediato. E poi il grandissimo segretario, io penso che lei a Catania sta facendo benissimo ed è veramente un grande. E quel ragazzo in fondo do del tu a Luca Lupi perché il grande Guido Lupi, il papà, è stato uno dei direttori degli accosti più importanti che io ho conosciuto ed è stato ospite a un Oscar dei porti su Rai 1 e sono sempre grato a loro. Ed ora vediamo questa sorpresa dei porti insieme, giriamoci verso lo schermo. Se la godiamo insieme, scusate le spalle. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nostro meraviglioso mare. Grazie, 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 presidenti, grazie segretario, grazie manager Luca Lupi, grazie di cuore. Grazie e buon lavoro. Grazie per aver partecipato alla grangala del mare.